Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, io sono Claudio Cuocolo e sono il titolare di Surfcast di Nuno Ionio Come sempre ragazzi vi ricordo come ogni inizio di video di seguirci qui sotto, c'è scritto iscriviti rosso e attivare la campanellina accanto con tutte le notifiche così da non perdervi nessuno dei nostri nuovi video che usciranno perché noi pubblichiamo un video alla settimana, in casi eccezionali due video alla settimana quando abbiamo più tempo e vi ricordiamo anche che tutti i prodotti come le canne che noi recensiamo, gli ami, le girelle, i flotter, le perline, i travi già pronti, i terminali per i serra comunque tutti i prodotti li trovate sul sito www.surfcastingnoloionio.it qui sotto nelle info vi lasciamo il link in blu voi basta cliccare con il dito se è dal telefonino o dal tablet o col pc con il mouse e vi porterà sul nostro sito così facendo potete vedere le caratteristiche del prodotto anche se la recensione già la state vedendo parlo magari di qualche altra tipologia di prodotto la disponibilità, le misure, il costo e tutto quello che c'è da vedere, il metodo di pagamento e così via anche perché ragazzi noi abbiamo messo la possibilità di acquistare i prodotti anche col pagamento in tre rate senza alcun problema ok? apri e chiudo parentesi ogni tanto lo ricordo purtroppo non facciamo più il contrassegno quindi annulliamo gli ordini automaticamente di contrassegno per le canne da pesca perché siccome molte volte qualche furbo, non so per quale motivo, fa l'ordine in contrassegno noi mandiamo la merce e poi molte volte non l'accetta più quindi il corriere ci dice guarda, noi l'abbiamo consegnata 4-5 volte perché noi poi lo rimandiamo a costi nostri ovviamente il cliente non ha accettato il pacco ve lo stiamo rimandando indietro quindi non solo il costo ma c'è il rischio che la canna si possa danneggiare quindi noi con il contrassegno non consegniamo le canne il resto dei prodotti senza alcun problema ok? continuando, chiudendo questa piccola parentesi mi duele dirlo ragazzi, purtroppo però ci sono molte persone che non so per quale motivo forse sono convinte che un contrassegno non la pagano, non lo so evitiamo di farlo ormai ma soltanto per le canne da pesca per il resto dei prodotti senza alcun problema detto questo ragazzi oggi parleremo di un'altra canna della famiglia Saiko questa è una canna da self-casting ma personalmente io non la identificerei a self-casting o perlomeno a livello di visualizzazioni ma a livello di caratteristiche di canne io direi un beach ledgering un po' più pesante ragazzi diciamo una canna da beach da 150 grammi dai la 140 grammi da beach per intenderci e vi dico anche il perché come vedete ragazzi oggi parliamo della Yuki Saiko A4 Sensitive da non confondere con la A4 Plus faremo la recensione anche di lei però quella è un'altra canna ragazzi questa canna monta ovviamente la placca che è Fuji a vite come vedete la parte finale dell'impugnatura ovviamente ha sempre il tappo in gomma nella parte bassa impugnatura anatomica per la mano in un'eva molto dura che vi permette diciamo di avere un ottimo grip durante il launch placca montata sempre in maniera impeccabile da Yuki canna molto sottile sempre con le classiche rilegature di alto livello e sempre con il carbonio a spirale in vista vi faccio vedere un attimo velocemente il pedone questo è il pedone canna diciamo discretamente morbida come potete vedere comunque non è una canna difficile ricordatevi che qui magari può sembrare così difficile piegarla però quando si va in spiaggia è tutta un'altra storia io ve lo dico perché sono canne che ho già avuto in mano ho avuto già in spiaggia e quindi li ho già provate ora parliamo di tutte le caratteristiche la canna ha delle caratteristiche molto importanti vabbè gli anelli sono i lowrider e fino a qua ci siamo nell'etichetta comunque si legge anello Fuji originale però i lowrider ok quindi vedete il ponte il primo montato al contrario il secondo montato al contrario e poi gli altri montati così ma quello tutti i lowrider vengono montati così come anelli le rilegature sono arancioni un arancione c'è un prunito allora ragazzi abbiamo Angelo Musumeci sempre con l'A4 Plus Sensitive Saiko sempre 125 grammi lui in anacine inside canna sembra che non ha fatto una piega la vetta però è molto morbida molto morbida guardate qui ok perché questo? è stato studiato il fatto di mettere due anelli nella parte dell'apicale quindi nella cima quindi il primo anello è il classico ok? come potete vedere il classico anello che si monta nel lowrider il secondo e il terzo anello sono anelli monoponte l'anello monoponte vi permette di non irrigidire o perlomeno irrigidire di meno perché tutti gli anelli irrigidiscono ma irrigidire di meno e alleggerire la canna principalmente riducono la nervosità della cima perché questo ragazzi? perché questa canna viene prodotta solo ed esclusivamente nella misura 4,20 quindi non esiste 4,50 però come vedete ha una vetta mamma mia spettacolare quindi ragazzi questa è la canna che io posso consigliare anche il costo ha molto diciamo molto 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 contenuto questa tipologia di canna io la consiglio praticamente a tutte le persone che si stanno approcciando alla pesca da riva magari alle persone che si divertono dalla scogliera dal molo magari fanno la pesca alla mormora magari qualcuno che si improvvise magari una specie di fidere col pasturatore possibilmente magari qualcuno che invece il periodo estivo vuole andare a Lecce Stella volendo la canna la potete utilizzare anche con una bombarda da 60 grammi magari per la Lecce Stella per le aguglie diciamo che è una canna molto polivalente a livello di qualità è sempre costruita con prodotti di fascia alta e io la consiglio per quell'utilizzo io di certo non ve la vado a consigliare per andare a pescare a surf casting sono sincero io la consiglio per quegli utilizzi quindi non è una canna non prestazionale ma è una canna prestazionale per altre esigenze ok quindi i prodotti vanno dati con un nome e un cognome in particolare in questo caso questa canna va secondo il mio parere utilizzato con quell'aspetto quindi si vetta sensibile si canna leggera vi dico anche il diametro del pedone e anche il peso allora la parte del pedone a livello della placca che è dove ci interessa è 20 mm quindi un pedone da 20 mm si beh poco meno ragazzi poco meno diciamo 20 mm andiamo diciamo sul grosso 20 mm tip action quindi sembra un'azione di punto come dicevamo comunque è un pedone molto sottile il peso è 500 grammi quindi il peso diciamo giusto niente di diciamo così sconvolgente anche perché comunque la canna è potente cioè la parte del pedone comunque è sempre una canna da surf quindi vi permette sempre una schiena in alcune circostanze una schiena più potente quindi che vi può aiutare in alcune circostanze prendendo determinate tipologie di pesci quindi non è proprio come una canna da beach leggering esempio DSC light quella è una canna eccezionale per il beach leggering per la bombarda per la trainetta ma finisce lì lei comunque ha più potenza anche sul pedone infatti pesa un pochettino di più ed è anche un pochettino più dura io vi parlo che come tipologia di canna per come è rapportata con la cima è una canna che oggettivamente consiglio di avere chiunque nella propria sacca pratica economica peccato che ci sono una lunghezza anche se comunque le 420 non mi dispiacciono come canna però dipende poi dai modelli ogni modello poi dà il meglio secondo una lunghezza secondo il mio parere ecco perché poi viene rapportata come vi dicevo il peso ve l'ho detto la tipologia di vetta ve l'ho detto il tipologia di lavoro a cui io la impiegherei ve l'ho detto è una canna sì come vi ho detto forse questo non ve l'ho detto viene chiamato tip vetta in tip sensitive soft ok proprio voi vi rendete conto che quando l'andate a piegare con le mani vi rendete conto che è proprio morbida cioè tipo non posso spiegare molto morbida e molto cedevole ok quindi quel soft sta inteso in quel senso a differenza magari di una vetta ibrida normale che invece è molto più nervosa perché è una vetta 50% come se fosse full carbon e 50% come se fosse soft e quindi esce quel tipo di vetta ibrida ok detto questo ragazzi io questa è una canna ripeto che visto il costo la consiglio è giustificato un prezzo giusto anellatura fuji di alto livello placca fuji rilegature belle una canna molto facile di utilizzo quindi alla portata praticamente possiamo dire di tutti sì lo possiamo dire quindi alla portata di tutti facile lineare divertente perché comunque ci ricordiamo che per una canna del genere per il periodo estivo è super divertente ma anche per il periodo invernale ripeto ragazzi per chi magari pesca le moli o peschi dalla spiaggia in zona dove ci sono le mormore dove ci sono magari le zone io immagino le zone profonde quindi il messinese per intenderci quindi dove c'è il chaietto ci sono quelle spiagge molto profonde ci possiamo divertire con i succarelli ci possiamo divertire con gli occhioni quindi è una canna molto molto divertente anche perché il pesce in canna trasmette su questo attrezzo molta sensibilità che è una cosa ragazzi da non sottovalutare poi come sempre ragazzi è una canna molto maneggevole e molto ben riportata quindi comunque quando teniamo la canna in mano non tende a pesarci in avanti e andare a schiacciare e non a caso sarà stata fatta a 4.20 proprio perché forse la 4.50 non andava bene ed è stata progettata solo questa tipologia va bene? come sempre se vi è piaciuta la canna la potete andare a acquistare sul nostro sito www.surfcastingloionio.it qualsiasi informazione ci contattate con un messaggio su whatsapp noi rispondiamo sempre e comunque certatevi soltanto di aver mandato il messaggio perché molte volte succede che non arriva e detto questo ragazzi vi lascio concludiamo il video buon proseguimento di video perché sul nostro sito vi ricordo qui su youtube potete andare a visionare tutte le tipologie di recensioni che avete sulle saiko e man mano usciranno le altre quindi noi le abbiamo fatte su tutte però ovviamente le pubblichiamo piano piano quindi se aspettate una recensione in particolare attivate la campanella e pian piano usciranno le recensioni va bene? quindi a presto buon divertimento e buon mare mi raccomando compra anche tu la tua yuki saiko idonea per le tue esigenze perché ragazzi la cosa fondamentale non è il costo dell'attrezzo e che sia la canna ideale per le tue esigenze per le vostre esigenze può essere il top di gamma ma che non va bene a voi come può essere la parte diciamo iniziale della fascia che magari può essere la canna perfetta per le vostre esigenze va bene? per il resto buon divertimento